Benvenuti avventurieri, alzi la mano chi non ha mai sognato di cavalcare un destriero maestro nell'arte del combattimento, con l'agilità di un elfo e la forza di un toro? Oggi ci immergeremo nel mitico mondo del gioco di ruolo Dungeons & Dragons per esplorare uno dei più affascinanti e iconici esseri fantastici, il centauro. Preparatevi a un viaggio attraverso la storia, le caratteristiche e le possibilità avventurose di questa creatura metà uomo e metà cavallo. Affilate le vostre spade e preparate le vostre magie, perché la foresta dei segreti del centauro vi attende. Il centauro è una creatura mitologica presente nel mondo di Dungeons & Dragons. Questi esseri possiedono il corpo di un grande cavallo sovrastato da un torso, una testa e delle braccia umanoidi. Sono vagabondi reclusi che evitano i conflitti, ma combattono con ferocia quando sono costretti. Ecco alcuni dettagli sulla creatura centauro in D&D. Taglia, grande. Allineamento, neutrale buono. Classe di armatura, 12. Punti ferita, 45, 6 di 10 più 12. Velocità, 50 piedi. Statistiche? Forza, 18, più 4. Destrezza, 14, più 2. Costituzione, 14, più 2. Intelligenza, 9, meno 1. Saggezza, 13, più 1. Carisma, 11, più 0. Abilità, atletica più 6. Percezione più 3. Sopravvivenza più 3. Sensi. Percezione passiva 13. Lingue, elfico, silvano. Sfida, 2. Bonus di competenza, più 2. Attacchi. Lancia, l'attacco con la lancia infligge. 1 di 10 più 4, danni perforanti. La centaura può effettuare questo attacco a distanza di 10 piedi. Zoccoli, l'attacco con gli zoccoli infligge. 2 di 6 più 4, danni contundenti. Arco lungo, l'attacco con l'arco lungo infligge. 1 di 8 più 2, danni perforanti. I centauri sono creature affascinanti che incarnano una fusione unica di grazia e forza. Sebbene evitino i conflitti, sono pronti a difendersi con determinazione quando necessario. Puoi trovarli nei boschi, in svariate foreste e nelle pianure del multiverso, e la loro origine è spesso legata al Feywild, risuonando magicamente con il mondo naturale. Abilità dei centauri in Dungeons & Dragons includono. Atletica, i centauri sono abili nel movimento e nella forza fisica, con un bonus di più 6 alla competenza in atletica. Percezione, hanno una percezione acuta, con un bonus di più 3 alla competenza in percezione. Sopravvivenza, essendo creature che vagano per boschi e pianure, i centauri hanno una buona conoscenza della sopravvivenza naturale, con un bonus di più 3 alla competenza in sopravvivenza. Queste abilità li aiutano a sopravvivere nel loro ambiente naturale e a difendersi quando necessario. Il comportamento e l'allineamento dei centauri in Dungeons & Dragons possono variare notevolmente a seconda della tribù di provenienza, dell'ambiente in cui vivono e della cultura che seguono. Tuttavia, ci sono alcuni tratti comuni che spesso caratterizzano questi magnifici esseri. Onore tribale. Molte tribù di centauri seguono un codice d'onore tribale rigoroso, che spesso determina il loro comportamento e le loro azioni. Questo codice può includere la lealtà alla tribù, il rispetto per la natura e il territorio circostante, e un forte senso di giustizia e comunità. Coraggio e determinazione. I centauri sono spesso visti come creature coraggiose e determinate, pronte a difendere la propria terra e i propri compagni con ferocia e vigore. Rispetto per la natura. Data la loro stretta connessione con la natura. Molti centauri mostrano un profondo rispetto per gli equilibri naturali e per gli spiriti degli animali e degli elementi. Indipendenza e libertà. I centauri valorizzano spesso la loro libertà e indipendenza. Preferendo vivere nelle vaste distese selvagge o nelle foreste piuttosto che in città o insediamenti umani. Neutrale buono o neutrale. Gli allineamenti più comuni per i centauri sono neutrale buono o neutrale. Questo riflette il loro equilibrio tra il desiderio di proteggere la natura e le loro comunità, buono, e il rispetto per la libertà individuale e l'indipendenza, neutrale. Spirito guerriero. Molte tribù di centauri sono guerriere per natura e possono essere aggressive nel difendere il proprio territorio o nell'affrontare minacce esterne. Amicizia con altre creature della foresta. I centauri spesso stabiliscono legami di amicizia con altre creature della foresta, come gli elfi, le creature fatate o gli animali selvatici. Queste relazioni possono influenzare il loro comportamento e le loro azioni. È importante notare che, come per ogni razza di Dungeons & Dragons, ci sono sempre eccezioni a queste generalizzazioni e i centauri possono essere interpretati in modi diversi da parte dei giocatori e dei master in base alle esigenze della storia e della campagna. Anche se i centauri in Dungeons & Dragons sono creature potenti e agili, hanno anche delle debolezze che possono essere sfruttate dagli avversari. Ecco alcune delle loro possibili vulnerabilità. Dimensioni enormi A causa delle loro dimensioni imponenti, i centauri possono avere difficoltà a muoversi agilmente in spazi ristretti come corridoi stretti o caverne anguste. Questo può limitare la loro mobilità e la loro capacità di schivare attacchi in certe situazioni. Natura selvaggia Alcuni centauri possono essere impulsivi o facilmente provocati, soprattutto quando si tratta di difendere la propria terra o la propria comunità. Questo può renderli suscettibili a trappole o inganni che sfruttano la loro natura impulsiva. Sensibilità agli attacchi a distanza Nonostante la loro agilità, i centauri possono essere vulnerabili agli attacchi a distanza, come frecce, incantesimi o attacchi da proiettili. La loro imponente stazza può renderli facili bersagli per attaccanti lontani. Dependenza dall'acqua A causa del loro aspetto equino, i centauri possono avere una maggiore necessità di acqua rispetto ad altre razze. In ambienti aridi o privi di risorse idriche, possono soffrire di disidratazione più rapidamente. Legami tribali Sebbene il senso di comunità sia una forza dei centauri, può anche essere una loro debolezza. Se un avversario è in grado di minacciare la loro tribù o i loro cari, i centauri potrebbero essere inclini a cedere a richieste o minacce per proteggere i propri. Riluttanza A impegnarsi in intrighi Data la loro natura diretta e onorevole, i centauri potrebbero essere riluttanti a impegnarsi in trame o intrighi politici, rendendoli vulnerabili a manipolazioni o giochi di potere da parte di individui più subdoli. I centauri in Dungeons & Dragons sono solitamente associati a habitat naturali come le foreste, le praterie aperte e le pianure selvagge. La loro natura equina li rende particolarmente adatti a questi ambienti, dove possono galoppare liberamente e sfruttare la loro agilità e velocità. Ecco alcuni degli habitat in cui è possibile incontrare i centauri. Foreste Le foreste dense e selvagge sono tra gli habitat preferiti dei centauri. Qui possono muoversi agilmente tra gli alberi e le radure, cacciando prede o pattugliando il territorio della loro tribù. Pianure e praterie Le ampie distese delle pianure e delle praterie offrono ai centauri spazi aperti ideali per galoppare e combattere. Molte tribù di centauri si stabiliscono in queste regioni, dove possono vivere una vita nomade o seminomade seguendo le migrazioni delle mandrie o cacciando la selvaggina locale. Steppe Le steppe aperte e le savane possono essere habitat ideali per i centauri, offrendo ampi spazi aperti per la caccia e la vita nomade. Qui possono incontrare altre creature selvagge come leoni, gazzelle e zebre, con cui possono condividere il territorio o competere per le risorse. Montagne Anche se meno comuni rispetto alle foreste e alle pianure, alcuni gruppi di centauri possono stabilirsi nelle regioni montuose. Qui possono costruire insediamenti nelle valli o sulle pendici, sfruttando le risorse naturali e difendendo il territorio dalle minacce esterne. Riserve naturali In alcune campagne, i centauri possono essere custodi di antiche riserve naturali o santuari sacri, dove proteggono la flora e la fauna locali e mantengono l'equilibrio dell'ecosistema. In generale, i centauri preferiscono abitati aperti e naturali dove possono esprimere la propria natura selvaggia e godere della libertà della vita all'aria aperta. Tuttavia, possono adattarsi a una varietà di ambienti, a seconda delle esigenze della loro tribù e delle sfide che devono affrontare. Ecco alcune curiosità sui centauri in Dungeons & Dragons. Origini mistiche Nei miti e nelle leggende, i centauri sono spesso descritti come creature dalla natura misteriosa e mistica, che unisce la forza selvaggia degli animali alla saggezza e all'intelligenza degli esseri umani. Questa dualità li rende affascinanti per molti giocatori e master. Ispirazione mitologica Come molte creature di D&D, i centauri traggono ispirazione dalle mitologie di varie culture del mondo reale, inclusi i centauri della mitologia greca. In queste leggende, i centauri sono spesso raffigurati come creature selvagge e indomabili, simboli della natura selvaggia e della forza primordiale. Varianti culturali Nelle varie ambientazioni di Dungeons & Dragons, i centauri possono essere rappresentati in modi diversi a seconda della cultura e del mondo in cui vivono. Ad esempio, in alcuni ambienti possono essere tribali e nomadi, mentre in altri possono essere civilizzati e organizzati in città-stato. Legami con altre razze I centauri possono avere relazioni complesse con altre razze di D&D. Ad esempio, possono essere in buoni rapporti con gli elfi e le creature fatate, condividendo una profonda connessione con la natura. Tuttavia, potrebbero essere in conflitto con razze come gli umani o i nani, specialmente se queste cercano di colonizzare o sfruttare il loro territorio. Ruoli in avventure I centauri possono assumere una varietà di ruoli nelle avventure di D&D, sia come alleati che come avversari. Possono essere guardiani delle terre selvagge, difendendo il loro territorio dagli invasori o dalle creature malvagie. Allo stesso tempo, possono essere cercatori di avventure, esplorando terre sconosciute o rispondendo a richieste di aiuto da parte di altre razze. Arte e cultura Nei mondi di D&D, i centauri possono avere una cultura ricca e diversificata, che include tradizioni artistiche, musicali e spirituali uniche. Possono creare opere d'arte ispirate alla natura e alla loro vita nomade, e praticare forme di spiritualità che riflettono il loro legame con la terra e gli spiriti degli animali. In Dungeons & Dragons ci sono alcuni centauri famosi che sono diventati leggendari grazie alle loro gesta avventurose o al loro ruolo nella storia dei mondi del gioco. Ecco alcuni esempi. Felarion Stormcastle Questo centauro guerriero è diventato famoso per le sue imprese in battaglia, difendendo la sua tribù dalle minacce esterne e combattendo al fianco di alleati di ogni razza per proteggere le terre selvagge. La sua forza e il suo coraggio lo hanno reso una figura leggendaria tra i centauri e le altre creature delle foreste. Taurog the Swift Taurog è noto per la sua straordinaria velocità e agilità, che lo hanno reso il più abile cacciatore della sua tribù, ha compiuto molte imprese di caccia e ha difeso il suo territorio dagli intrusi con astuzia e determinazione. La sua abilità nel tracciamento e nell'uso dell'arco lo ha reso temuto da prede e nemici. Rin the Wise Rin è un centauro anziano noto per la sua saggezza e la sua profonda connessione con la natura. È rispettato come un leader tribale e come un consigliere saggio, offrendo saggezza e guida alla sua tribù e a coloro che cercano il suo aiuto. La sua conoscenza delle erbe medicinali e delle pratiche di guarigione lo rende anche un guaritore molto rispettato. Darius Tanderuf Darius è un centauro guerriero leggendario, noto per il suo coraggio e la sua abilità nel combattimento. Ha condotto molte campagne militari contro le forze nemiche che minacciavano il suo popolo e ha combattuto in numerose battaglie epiche, diventando un simbolo di resistenza e speranza per i centauri e le altre creature delle terre selvagge. Ariana Windrunner Ariana è una centaura arcera di straordinaria abilità. Conosciuta per la sua precisione mortale e la sua capacità di colpire bersagli lontani con rapidità e precisione. Ha viaggiato per il mondo in cerca di avventure e ha combattuto al fianco di eroi di ogni razza, dimostrando che il coraggio e la determinazione non conoscono confini. Che l'eco dei loro zoccoli risuoni ancora nei venti delle terre selvagge, ricordandoci che la forza della natura è indomabile e che il coraggio dei centauri è un faro di speranza nelle tenebre dell'avversità. Grazie a tutti.